Allora, oggi prepariamo lo zabaione, uova, marsala, zucchero e amido di mais, sempre per evitare il problema glutine. Prima le uova, una leggera sbattuta, poi lo zucchero mescolato con l'amido di mais, mescolato a levare i grumi, e poi marsala. A questo punto, dopo aver messo tutto al marsala, microonde, tempo 3 minuti per la prima tornata e poi 2 e 1. Questo dopo l'ultimo minuto è pronto, è morbido, settoso, omogeneo, a questo punto volendoro raffreddare velocemente in un vassoio inox e poi in frigorifero.